Io quello che posso dire è che ci stanno già in essere le telecamere sui tasti dei poliziotti e della polizia, dei garabinieri, proprio che servono per documentare quelle che sono le azioni di unione pubblico per la massima trasparenza e questo serve a tutti, serve a chi manifesta ma serve anche alle porte di polizia perché è giusto che ci sia una rappresentazione concreta di quello che avviene quando c'è l'azione. Grazie.